Il cielo. Mi piace camminare in cielo e saltar di cirro in cirro. Sia quando sono vicini e si può giocare con poco sforzo, sia quando i cirri sono distanti e richiedono più fatica. Se sono più densi si fa velocemente, con non curanza, ma quando sono sottili ci vuol coraggio e intraprendenza. Da questi sottili e trasparenti sono stato sempre attratto perché mi fanno guardare oltre, stimolano il mio pensare ed emergono novità che coi soli occhi non potrei vedere. Sono pochi quei momenti in cui mi piace il cielo grigio, tutto è più uniforme. La passeggiata è noiosa, piatta, non si incontrano ostacoli che bloccano il mio andare. Se vado per cadere, forse, qualcuno mi vorrà aiutare, ma sarebbe assai tedioso, non mi farebbe divertire. Perché avanzare in cielo senza cirri su cui saltare?